Fai un respiro profondo. Vieni al mondo, impari a respirare, camminare, parlare, ti insegno a notacere, ascoltare, vai a scuola, impari a colorare, scrivere, leggere, colorare dentro le righe, scrivere sotto dettatura, leggere ciò che è giusto per la tua età. Cresci e la faccenda si complica, ti innamori e il mondo esplode, ma ancora devi scrivere quello che ti dettavano e leggere solo ciò che è giusto. Scegli una scuola, ti diplomi, vai in università, ti innamori di nuovo, ma non è come prima. Lo chiamano amore maturo, salato lo fai andare bene. Lavori, cambi lavoro, ti innamori di nuovo, ma con quello di prima è aperto un mutuo e il cuore perde contro il bilancio mensile. Cresci, ti sposi, figli, Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto, tredicesima, quattordicesima pensione e poi muori. Adesso parlo io. Avete mai avuto l'impressione di vivere in un sogno? Di sentirvi addosso quella strana sensazione di essere solo uno spettatore della realtà? Se così non fosse, il mondo sarebbe privo di tutte quelle storie di profondo cambiamento che a volte non riusciamo a comprendere. Come quella dell'imprenditore di successo che ha deciso di molare tutto e andare a vivere in un eremo. Ci è stato insegnato a calibrare, ponderare, valutare, analizzare, calcolare. Abbiamo sempre tirato una riga sul foglio ed elencato i pro e i contro. Ragionato allo specchio sui rischi che potevamo permetterci e quali le responsabilità che proprio non potevamo evitare. E poi, solo poi, abbiamo preso una decisione. E non fraintendetemi. È un metodo che funziona. Ma allora perché alcune persone, senza quasi preavviso, stravolgono la loro vita? Forse perché, come me, ad un certo punto, avevano finito le scuse. Io sono Paola. E questa è la mia storia. Partiamo dal presupposto che di motivi per cambiare tutto è pieno il mondo. Ognuno poi trova quello che gli piace di più. La realtà dei fatti, però, è che cambiamo solo quando siamo pronti per farlo. È solo quando già sappiamo cosa fare che il nostro cervello inizia a trovare tutte le ragioni necessarie per sostenere la decisione presa. Ah, e questo non lo dico io, ma la psicologia. Senza dubbio, una certa dose di coraggio è comunque richiesta. Si sa che al cervello umano il cambiamento non piace. E se ha trent'anni siamo ancora vivi, per lui il lavoro è compiuto. Se abbiamo un tetto sopra la testa e cibo nello stomaco, la nostra mente è più che soddisfatta del lavoro svolto, perché in fondo in fondo non siamo altro che animali che mangiano con le posate. Finché sopravviviamo, la missione è compiuta. Tornando a me, il coraggio di cui avevo bisogno per cambiare ha bussato spesso alla porta, circa tutte le mattine che mi svegliavo alle sette per andare in ufficio a lavorare. Ma io ero troppo impegnata a correre sui binari. Ho studiato, ho viaggiato, adesso sarà anche ora di trovare un lavoro e sistemarsi, no? E così, tutte le mattine, sceglievo di andare in ufficio anziché affrontare lunghe conversazioni con un coraggio che non mi sentivo in grado di indossare. Beh, sapete cosa ho scoperto? Che il coraggio non se ne va. Rimane a bussare tutti i giorni e piano piano, se continuate ad ignorarlo come ho fatto io, si trasforma in disperazione. Ebbene sì, la disperazione non è altro che coraggio andato a male. Ha quell'odore rancido di bidoncino dell'umido fermo sotto il lavello da settimane, conoscete quell'odore, non dite bugie. Se il coraggio bussa educatamente alla porta, la disperazione entra nella tua rutina gamba tesa e investe ogni aspetto della tua quotidianità lasciando a tutto un retrogusto amaro, in caso la metafora del luido non fosse stata abbastanza esplicita. Insomma, ad un certo punto la mia bolla è scoppiata. Ho mollato tutto, esausta, come un giocoliere che di colpo molla tutte le palline che sta facendo loteare da anni sopra la sua testa. Ho rinunciato a un lavoro che non mi piaceva, ma almeno era sicuro. Ho perso diversi amici, ma forse non erano amici. Ho perso centinaia di certezze, ma forse a questo punto non erano poi così certe. Sì, è cambiato tutto e penso che in quest'ultimo anno la vita si sia divertita a vedere fino a che punto riuscivo ad andare avanti, perché posso assicurarvi che di calci sui denti ne sono arrivati parecchi. Ma, come vi dicevo, avevo finito le scuse. Avevo rinunciato a tutto, mi ero isolata, non mi importava di pensare al futuro. Qualcosa però era venuto con me in questo trapasso, qualcosa di me era riuscito a rimanermi appiccicato mentre mi scrollavo di dosso la vecchia pelle. Mi guardai allo specchio un giorno e vedi che insieme a me era rimasta la mia arte. Chiaro, è difficile dare credibilità all'arte in un mondo che ragiona per profitti e guadagni, e infatti ho deciso di dedicarmi all'arte solo perché in realtà fu lei che scelse me. Non avevo nient'altro, ricordate? Niente più casa, niente più lavoro. Ma in fondo in fondo avevo qualche risparmio, in fondo in fondo un posto dove stare senza l'ansia delle spese l'ho trovato. Ma in fondo in fondo non mangio poi così tanto, quindi perché non iniziare questa nuova avventura? Ma sì, cosa potrà mai succedere? E così la mia quotidianità si è riempita di colori, tavole e pennelli. Ammetto che ho iniziato tutto come un gioco, quasi come una cura ristoratrice dopo tutto quello che mi era successo. Il mio unico obiettivo era essere felice. E ci sono riuscita, perché quando sei felice le cose iniziano a muoversi per il verso giusto. Non farò nomi, ma c'era qualcuno che credeva in me più di quanto riuscissi a farlo io. E infatti ho scoperto questa cosa. Nella vita per riuscirci hai solo bisogno di qualcuno che creda in te. Segnatevelo. Certo, poi il lavoro sporco tocca sempre a te, eh? In ogni caso, dopo pochi mesi ho capito che non potevo essere solo una pittrice. Se volevo lavorare in autonomia dovevo occuparmi di altri mille aspetti fino a quel momento vergognosamente ignorati. Per prima cosa ho riesumato il mio vecchio blog. Da WordPress l'ho trasferito su Hostinger per poter usare Elementor come strumento di gestione. Non so se l'ho spiegato nel modo giusto. Tuttora non sono proprio un'esperta di siti e domini, ma lo sto facendo funzionare e ne vado anche abbastanza fiera. Se volete dare un occhio trovate il link sotto al video. I consigli sappiate, sono sempre ben accetti. Da website developer mi sono spostata nel campo del social media marketing, dove ho trasformato il profilo Instagram in profilo professionale, agganciato a Facebook che è agganciato a Shopify e il tutto è comodamente gestibile dalla piattaforma di Meta Business Suite. Sembra una filastrocca, ma è molto più complesso di quello che sembra, tanto che circa una volta al mese mi sento con un consulente di Meta per fare il punto della situazione. Le qualità di content creator spaziano dall'uso di Photoshop a Filmora, ma è su quest'ultimo che sto investendo di più. Filmora è un programma per la realizzazione di video. Lo usavo già per diletto personale, ma da quando ho iniziato l'avventura di YouTube il mio approccio è molto più sistematico e analitico. Parlando di YouTube, forse un pensiero superficiale potrebbe supporre che il mio topic per eccellenza siano tutorial di pittura o simili. Sì, anche, ma non è proprio così. Il mio esempio rimane lui. Quello che mi piacerebbe fare è, proprio come lui, mantenere la visione artistica anche nella realizzazione dei video. Certo, stiamo paragonando una Ferrari o una bicicletta, ma datemi il tempo. Oh, ragazzi, datemi solo un po' di tempo. Perché qui stiamo partendo dalle basi? Ma la strada non mi fa paura. La gavetta non si schippa e l'umiltà o te la fai amica da subito o peggio per te. Quindi, per partire bene, mi hanno detto che lui è forte. A Luca di Scacciati. Investo su di me e prendo il suo corso. Saranno dieci ore di corso. E me le cucco tutte. Beh, per fortuna. E in ultimo, ma non ultimo, i tutorial. Decine, centinaia di tutorial su come fare qualsiasi cosa. A tutti voi che vi prendete la briga di farle va la mia eterna gratitudine. E fidatevi, se potessi, vi pagherei. Ma nonostante questo, nonostante l'impegno e la passione, nonostante la mia vita ora mi piaccia mille volte di più di quella che era prima, i dubbi e le domande che mi assilano oggi sono gli stessi che avevo all'inizio. Sappiatelo, non si arriva a nessun traguardo. Non c'è un modo di salvare la partita o di premere CTRL Z in caso si facciano cavolate. Continuo a chiedermi se ho fatto bene, se non ci fosse stata un'altra strada più giusta per me. E nel caso questo progetto non decollasse? Nel caso io finissi tutti i miei risparmi e il sogno si infrangesse sullo scoglio della realtà? Riuscirei a superare la delusione e reinventarmi di nuovo? Non c'è modo di prevedere il futuro, l'unica cosa che puoi cambiare è il presente. E quando tutto si fa nero, ti rimane solo una cosa da fare. Fai un respiro profondo. E poi riparti. Fai un respiro profondo. E poi riparti. Grazie.